Visita di una delegazione ligure alla Delirium Room dell'ospedale San Donato di Arezzo, la stanza per ritrovare la pace, quella ad Arezzo, la prima in Toscana. Oggi dimostriamo che il servizio sanitario pubblico ha davvero una marcia in più. La marcia della competenza professionale, la marcia dell'investimento tecnologico, la marcia dell'organizzazione e del confronto fra realtà diverse. Si tratta di una stanza per accogliere i pazienti in stato confusionale acuto o demenza senile e anche i loro familiari. È attiva ormai da 4 anni. L'importanza di questa stanza è quella di ridurre la terapia farmacologica o antipsicotici nei pazienti anziani. Questo con una stimolazione sensoriale. Arredi domestici ed ambienti studiati su misura, dalla musicoterapia alle colonne con bolle d'acqua, dalla cromoterapia ad una culla per accogliere in sicurezza il paziente. È in qualche modo strutturata come fosse un ambiente familiare. Infatti si cerca di mascherare tutte quelle che sono tipo la presa per l'ossigeno, la flebo eccetera, in modo da dargli un'idea di essere come a casa. La Delirium Room non ha volutamente niente di ospedaliero, si trova infatti a pochi passi dal reparto di geriatria. Qui il familiare ha il ruolo vero del caregiver, cioè riceve le informazioni da noi e poi chiaramente si comporta di conseguenza all'interno della stanza. Al momento l'unica struttura simile in Italia è al Sant'Orsola di Bologna, ma adesso la realtà potrebbe essere replicata anche in altri ospedali.